Ci troviamo davanti a questo splendido murales, se così lo possiamo chiamare, che si trova a Fontanelle, in una delle palazzine di via Caduti per Servizio, un quartiere particolare di Pescara, illuminato da questa opera d'arte di Francesco Giorgino. Come è nata questa idea? L'idea di venire a dipingere a Pescara è nata da me e dall'assessore della cultura Giovanni Di Jacopo, che segue i miei lavori da qualche anno e non vede valora di farmi fare qualcosa a Pescara. Ci siamo messi alla ricerca di un possibile muro, un possibile supporto, facendo un po' il giro di tutti i quartieri in cui vi sono delle residenze popolari, quindi anche non di privati, ma che potevano essere, insomma, che potevano anche avere un'estetica e una forma adatta ad essere da supporto ad un'opera d'arte di questo tipo. Abbiamo scelto questa perché ha anche una grande visuale, si vede da molto lontano e, insomma, una sorta anche di ingresso ad un quartiere che altrimenti avrebbe soltanto strade e palazzi. Cosa rappresenta questo disegno? Allora, di solito, prima che l'opera non è finita, io ancora non ho ben chiaro, capito, il mio comunicato stampa con cui spiegare quello che sto facendo, però in poche parole posso dire che si tratta di relazione tra persone e, insomma, lo scoprirete domani. Quanto tempo per fare questo disegno, quest'opera? Una settimana. Sto lavorando da mercoledì scorso, quindi una settimana.